E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. 9 vittorie su 10, primato in classifica e un Dries Mertens in grandissimo spolvero. Il Napoli si presenta al meglio con la sfida al Sassuolo che l'anno scorso impose agli azzurri due pareggi, ma stavolta non c'è l'infortunato Domenico Berardi. Grave ingenuità difensiva dei Neroverdi. Alan ringrazia per il secondo centro stagionale. Dare a sfidare Chiri che c'è l'uno contro uno. Bello il cross e Falcinelli al 41esimo. Ristabilisce la parità San Paolo. E' uno a uno. A rientrare, Cajécon! Pallone che passa! Il Sassuolo spaventa gli azzurri con il primo vero affondo del match, ma José Cajécon ristabilisce il vantaggio prima dell'intervallo. All'appello ora manca solo Mertens a caccia della doppia cifra. Il palo nega il giovane Francesco Cassata, il primo gol in Serie A team, e la sfortuna contagia anche Zelinski. Un Sassuolo generoso si arrende alla superiorità tecnica della squadra di Maurizio Sarri. Con la decima vittoria in campionato, il Napoli si riprende alla vetta solitaria della classifica. Il campionato è appena cominciato, ci sono 5-6 squadre in 2-3 punti, quindi è inutile parlare tanto. La squadra sta bene, la sensazione, ma oltre alla sensazione anche i numeri sono di buon livello. In questo momento le proiezioni sono inverosimili, però non penso che le squadre possano tenere questo ritmo fino alla fine.